Tutti da Salvatore, eccolo qui, grandissimo Picone. Sebi Picone, Sebi Picone, grandissimo. Dietà, dietà, grande dietà. Saluto, tu fai tutte le sbattute, Giri Scotti, Pazziscia, Chiofiorello. E i tuoi fan, li vuoi salutare? Sì, saluto tutti i miei fan, fans, i fans al plurale, fans. I fans, ecco, chi chiama fan e chi fans, e tu fans, vai. Saluto tutti e una bellissima e buona giornata da Sebi Picone, va bene? Eccolo qua, dove ti seguono? Su Instagram? Dove stai? Sebi Picone, su Facebook, Sebi con la I, non con la Y, perché io ho la Panda, non ho l'Y10, ho la Panda. Ecco, questa è la fattura, la fattura, ecco, Giri Scotti ce l'ha fazzito e ti regalo la manina del salutatore. Grazie, grazie. Così puoi salutare tutti quanti. Ciao, ciao, Picone. Bella, bello che sei tu. Grazie, grazie, ciao.